Lucrezia, l'ante, Montefeltro, della Rovere. Mortè. Lucrezia. Mamma, nonna, nonna, mamma. Adesso quasi quattro volte nonna. Tanta roba, no? Presente. Vino rosso. Mi piacerebbe avere tutte e due, alternare un po' di qua, un po' di là. Mi piacciono gli uomini belli, però mi piacciono anche affascinanti. Sono fedele, sono infedele, poi sono di nuovo fedele. Però no, adesso sono diventata una brava ragazza, fedele. Ma speriamo che sia femmina tutta la vita, lo dico anche a mia figlia adesso che sta aspettando un altro bambino, speriamo che sia femmina, mille volte speriamo che sia femmina. Le Woolman è stato un incontro magico, aveva gli occhi che sbrilluccicavano. Io mi perdevo in lei. Mario è stato il primo regista che mi ha portata sul set e che mi ha fatto fare quel meraviglioso film, speriamo che sia femmina, ed è stato un grande, grandissimo. Viale del tramonto. Luca Ronconi, un saluto anche a Giorgio, però Ronconi è stato il maestro del teatro, della regia. Insomma, Albertazzi era un po' cialtrone. Adesso che sono un po' più invecchiata, le scarpe si vedono di meno e quindi vado con gli occhiali. Devo fare ordine nel mio caos. Salatissimo. Ah no, ho paura di vivere totalmente. Difficile vivere ogni tanto, spesso. Tutta la vita è il teatro, tutta la vita qua dentro, anche perché qua dentro succede una cosa magica che il tempo non esiste più, sembra quasi più facile qua che fuori, quindi vorrei stare qua. In esclusiva su TV Loft, abbonati su tvloft.it e scarica l'app, ora disponibile anche su Smart TV.